vai 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 fantastico fantastico il parrocchiale motocross arriva quell'altro con la guarda guarda l'attacco al potere si incredibile fin la paletta non è facile girare sotto i due minuti adorno la paletta serve beh a parte che se non lo fai ti spostiamo la moto la vicina ai bagni simone sapido sapido sai cosa ridi sai che io sono va bene va bene non lo sono da solo ha già fatto danni ragazzo infatti cerchiamo di oh devi smetterla oh c'è un quasi canestro vuoi fare l'intro di questo video bella a tutti ragazzi non sono Mattia Carti per fortuna forse è un duffo assomiglia a Saverio Farina quei capelli tagliati aspetta il movimento è quello e oggi siamo a tornare con Giorgio Nosdeo bella giornata con i ragazzi felice ora che senza distanziali non vai molto distante non è che con la paletta 3 però bella questa eh bella hai ragione sono arrivati i nostri eroi finalmente è uno sbirro volante quindi cantatelo in coro ma che selezione musicale hai Tommy Vendra mi ha ascoltato da Verona fino a qua certo il loop il loop puoi salutarlo che guarda i video ciao Tommy Vendra guarda i video sei carico? mi sembra che sei molto carico carichissimo troppo hai proprio l'outfit a fresco di zona guarda nella balsa milanese guarda eeeeh eccola lì bella eh dai urlami un bea festa bea festa sono ragazzi sono ragazzi ragazza c'è Simone fresco di zona mettite le manine per la particola Tommy Crashboy Giulia Hertz Gigi che è sul furgone e papà di Tommy cioè praticamente siamo una squadra di calcio ma vuoi dirci qualcosa che cosa del mono di Rock Z ma che f*** è stato bravo l'ha tenuto fino all'ultimo anche perché non ha visto cosa succedeva dietro ch lone è ancora una faseanza che è stato bravo ah tutto in eh c'è questo qui è per trip Grazie a tutti. 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 E 4 giretti ce li siamo fatti. Prima entratina fatta per i ragazzi. È ufficiale. Siamo ad Orno come ogni 25 aprile. E' un'altra volta perché prima Elia ci ha regalato una perra su Dio è incredibile quindi in salata di parla non si capiva nulla. Ben tornati sul canale. Ben tornati sul canale benvenuti in un'altra parte. Benvenuti in un nuovo video. E' un'altra parte. E' un'altra parte. E' un'altra parte. è regolare. E' un'altra parte. E' un'altra parte. E' un'altra parte. E' un'altra parte. perché attenzione spiegazioni tecniche spiegazioni tecniche e consigli nascosti per kickstart da parte di Magazza stanno discorrendo nostri eroi pronti per la sfida un'entrata aggressiva al commento abbiamo anche Michael Magazza c'è un'aggressività ragazzi c'è un'aggressività c'è un'aggressività la abbiamo la tifoseria subito ha fatto triplo giù in carena ci regaleranno secondo voi la whipattina è uscito forte lì è lì si fa sotto è lì si fa sotto è lì si fa sotto quasi quasi siamo quasi in zona sorpasso è qua il pubblico in frattempo si è alzato in piedi tutti in piedi ho fatto l'interno eh là si è l'abbiamo un nerd che là è veramente veramente molto competitivo vicinissimi ha già preso dei misur è vicino è vicino è vicino affiancati affiancati troppo pulito il nostro pilota Honda commento tecnico di Michael Mangatta cosa credi di queste scelte tecniche di Hertz che prova a tentare il sorpasso ma tu dici che sarebbe potuto essere più aggressivo meno più aggressivo che numeri ragazzi che numeri ragazzi ragazzi non è finita finché non è finita guardalo Hertz è dentro per i ragazzi ecco di qua i nostri campioni i nostri campioni reduci da gara 1 intervista a caldo sentiamo Hertz questo qua c'ha il turbo nella moto effettivamente effettivamente Bob è già via la differenza di motore l'abbiamo notata anche dagli c***o via Dio no censura beh comunque siete pronti per gara 2 sì sì gara 2 la trasmetteremo in diretta su Instagram dai dai mi dite vicino a lei fai vedere bene lo sponsor del casco eccolo lì bravo giralo un pochino bravissimo ecco eccolo lì vedi tac vai bene c'è chi si fa dare le tecniche chi si fa dare i consigli qua guardate proprio è una competizione sentita guarda 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 partiti eh qua partiti che gli fa è la presa veloce ne approfitta Marzaro per prendere metri a nastro attenzione attenzione all'esterno che cosa fanno guardarmi i miei occhi questo è motocross no bandiera gialla bandiera gialla grazie tu sei un cavallo vero tu sei quella è stata proprio un bel tentativo di sorpasso due wow 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 facci la disamina del volo bello là dietro ci scherziamo su perché stai bene hai fatto un bel volo eh niente lì è nel saltino come si potrà vedere nel video eh mi è partita un po' troppo bandiera eh ho visto e dopo spaccare i freni cinematografico eh no no il collo l'ha sentito eh comincia ad avere una certità anche te eh eh già mi sta chiudendo così il vlog di questa giornata adorno con Michael che è sempre ultimo e sempre in fondo a caricare le cose non mi pare oggi non mi pare beh evidentemente gli pare male se non l'ha sentito lo vedrà nel video Bianca non è già sentito comunque anche questo 25 aprile ce lo siamo levati dalle eh siamo tornati adorno come l'anno scorso perché ormai è tradizione siamo divertiti spero che il video vi sia piaciuto abbiamo assistito a una gara la gara raga iscrivetevi al canale lasciate un bel mi piace le nostre avventure continueranno ovviamente in queste settimane possibilmente con un girettino nelle marche con il ponte me lo auguro ma nessuno vuole venire con me perché sembra che fa ponte è diverso cioè chi fa ponte chi non fa ponte io non faccio il ponte ciao no dai facciamo un altro fatta bene raga iscrivetevi al canale lasciate un bel mi piace spero vi state divertiti dire qualcosa adios adios grazie a tutti